Il concetto è questo, la vettura sulla terra, la guida su terra, su piaccio, quando il terreno è molto attrucciolevole, se tu guidi normalmente, pulito come in pista, su asfalto, se tu la percori normalmente, quando arrivi in corda al centro della curva, la vettura di lì parte in sottosterzo e tu sei fuori, non hai spazio per poter bilanciare questa manovra. Allora qual è il concetto? Quello di anticipare qui dove siamo adesso, cominci a sbilanciarla dall'altra parte, la butti dentro prima della curva, in modo che quando sei in corda hai finito la sbandata e c'è la macchina dritta in uscita. Il concetto è questo. Non è chiarissimo. Poi per fare questo c'è una tecnica realistica che si usa, che è quella di guidare con il piede sinistro sul freno, cioè vai a dosare le due cose insieme. Quindi quello aiuta molto, evidentemente le macchine stradali tipo questa non sono fatte per quello perché nel momento in cui io appoggio il piede sinistro sul freno, la centralina legge un'anomalia e stacca il gas, quindi stacca l'accentatore, ma questo è un problema di sicurezza, non è un problema di correre il corsaio. Qui siamo in accelerazione, in salita, in accelerazione, le sospensioni lavorano molto, quindi creano queste bocche, questo che viene definito tolombule. qui la vettura praticamente galleggia sopra il terreno e quindi è indispensabile anticipare qualunque tipo di curva costruendo una curva metri e metri prima della reale curva, in modo da potersi trovare al centro in corda della curva già con la vettura non più in sovrasterzo e neppure in sottosterzo, altrimenti andremo dritti nel secondo caso e in testa che cosa nel primo. Qui ci prepareremo un tornante a sinistra. altro tornante a sinistra, altre buche e qui la vettura rigalleggia di nuova, di nuova. questo ha un assento eccezionale, se vai in correzione sente benissimo le correzioni, la vettura fa esattamente ciò che gli chiedo di fare, qualunque movimento, seppur minimo, del volante io lo sento esattamente trasferito sui pneumatici. qui c'è una doppia curva, un destra e un sinistra. passiamo in una sinistra a destra, nuova a sinistra per prepararci al tornante che si riporta nuovamente nella parte in salita. in correzione le vettura di nuovo avvicini avvicini